La scuola di medicina, il tecnopolo, è un'attenzione concreta da parte di tutti gli organi istituzionali del territorio e non soltanto nei confronti dell'università della ricerca, guardando direttamente al mondo del lavoro. Oggi tutto questo è realtà a Taranto. Basta guardare questa conferenza stampa. Si svolge tra le aule dove le lezioni sono in corso nel prestigioso palazzo dell'ex Banca d'Italia. Temi questi su cui il Comitato per la qualità della vita insiste da circa 30 anni con l'instancabile professor Carmine Carlucci. Questo 2021 dunque nella città di Mare si apre con tutti i presupposti per avere una università autonoma e un rafforzamento dei corsi già presenti. Dunque da qui l'appello del Comitato non si molli l'attenzione proprio in questo momento così favorevole. Ci proponiamo di creare le condizioni ottimali affinché il percorso per l'istituzione dell'università autonoma di Taranto parta dalla scuola di medicina al dipartimento ionico, al coinvolgimento dell'intero sistema universitario ionico, ai centri di ricerca, alle attività che sono programmate dal CIS coordinato dal senatore Turco puntare fortemente a quei progetti di comunità che devono far diventare protagonista l'intero sistema universitario tarantino ma anche le imprese, le amministrazioni, le istituzioni tutte.